La Pieve di San Lorenzo a Montefiesole è collocata in prossimità delle rovine dell'omonimo castello, proprietà dei Vescovi di Firenze, di cui essa stessa era dominio. Le prime notizie sull'esistenza della Chiesa si possono rinvenire in un documento nel 1190 e proprio di quel periodo la Chiesa mantiene l'impianto romanico. Al suo interno la Pieve conserva una tavola raffigurante la Vergine del Parto della fine del XIX secolo, attribuita ad Antonio Veneziano, la cui provenienza è però volta da un alone di mistero. San Lorenzo a Montefiesole può vantare un secolare privilegio, concesso nel 1602 da Papa Clemente VII e rinnovato recentemente da Papa Francesco, ossia quello di essere stata identificata come Porta Santa. La Chiesa ha quindi la possibilità di celebrare il Giubileo nell'anno successivo a quello indetto per tutta la Cristianità.